sulle mani buongiorno mondo siete pronti buongiorno mattia oggi casa io e te da soli i pazzi vanno a correre le chiavi non torneremo più ciao buona corsa ciao ciao l'ai già fatto Sì, sì. Dove sei? Sono dentro. Guarderò. Arriba Stringo. Quale? Questo. Beh, è dentro. Ci sono tre spazzicazioni. Sì, sì, tre. Guarda quello. Ci sono tre. Uno. Gira tre. Due. E terzo ancora. Gira intorno. Che figata. Non sono i piedi, ragazzo. Non è che... Perché? Mi fissa di là. Ti sembra di andare... Mamma mia. Ti fa confusso? No, no, no. Ti sembra di chitarle. No, no, no. In verità non fa niente perché... Gira su quello. Ma almeno ti sembra che giri tutta la giostra. ? No, no. Ti epica. No, no... Grazie a tutti.